...così di impatto chiamare questo grande artista che è Tercise di Domenicatone, Tarkus! Sì, è un po' di vita! Let's get started! Sì, è un po' di vita! Let's get started! 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 we're getting started! Adorama! Andhane1 warmen! And V estava in front of me... let's get started... Lo so you've got to the monitorers! Over here...